Matteo, venisci prendere la bici? Ah, Puccio, posso prendere il tuo bicicletta? È facile! Vediamo oggi, dopo il primo allenamento, se ho recuperato bene dopo Romandì, bisogna aspettare 20 giorni per vedere la ultima giornata. Vediamo ora che nel tt di circa 4km non è finita bene. Potremmo è meglio, se non è lungo, ma si tratta di giorni per giorni, se ti ha buoni legati o non. 500 gradi da trattare! Fa bella foto qui! Fa bella foto qui! Non ricordo questo qua! La canna! La canna! Devo mettere i poli sui strumenti di stagare! Andiamo! Gianni Moscona, dalla Colombia, Daniel Martínez! Benvenuti nel paradiso! In Italia è un paradiso per tutti! No, per il giro! Il primo grande tour per l'anno! In Torino è un buon locale! E credo che tutti gli altri sono pronti per il giro! Il primo champion Filippo Ganna, il che ha avuto tre tre attraversi di Giro d'Italia, l'anno scorso, è stato fatto e dal momento in cui il resto della rata non è mai in dubbio! Affini ha dovuto guardare, mentre Filippo Ganna ha fatto il suo miglior momento! Grazie a tutti! Niente! Niente! Quando ci siamo arrivati per il giro, ho parlato con lui, sulle biciclette, il nuovo biciclette, il nuovo biciclette, il nuovo biciclette, qualcosa di più di più! E poi, vediamo in l'aria e dice ok, se vincere, posso darvi un presento! Ok, se vincere, posso darvi un presento! posso darvi un presento! Il bugatti! Ma... ho cercato molto bene, e in fine, ho comprato solo un Lamborghini! Start? Ciao! Il sentimento è un buon sentimento con i ragazzi, perché dopo la fantastica prima stagione con Filippo, la squadra è pronta per il G.C., ma allo stesso tempo è pronta per la stagione. Ci sono un po' che ti scrive in il tuo libro ogni giorno? Tire la pressione! Tire la pressione! Quattro? Tire la pressione! E anche io ho aggiungo di tutto in la giro da fuori! Oh, davvero? le schienری, tire la pressione… Quindi, per la gradocia, il montalino è un montaggio di montaggio e ho usato tutte le tue che mi vengono da strade bianca. There you go. Professionale. You feeling good, Johnny? Yes, great. I broke the ice, finally, after a free stage. Free time to try and lose. Back to win, for me, it's a dream. Obviously, also in the Giro, in my country, and with my people, it's amazing. It's like when your football team wins the Champions League. In the end, I think to honor the jersey, because I think it's the massive objective for the rider, when I have the jersey in the Jordan. But in the end, I'm happy to have used this jersey for my day, and then we hope to keep the game before the Giro. Mamma mia. Bravo.